Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori! Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori! Stiamo evidenziando il dramma dei genitori, dei papà che non possono vedere i propri figli, papà separati o li vedono in misura davvero ridotta e non in misura consona al loro ruolo genitoriale. Ma c'è anche il dramma dei nonni, dei papà separati che non possono vivere accanto ai nipotini. Abbiamo un nonno, il signor di Taranto, che ha da dirci qualcosa. Io come nonno vorrei vedere più spesso Miriam, la nipotina, specialmente quando mio figlio per ragione di lavoro è fuori, che non può vederla lui, perché per motivi di lavoro è fuori per 15-20 giorni. Questi nonni per 15-20 giorni, fino a quando non ritorna il papà che va a prendere la figlia con la benevole concessione del genitore mamma, la vediamo anche noi. Ma dopo 15-20 giorni, ma noi la vorremmo vedere più spesso, quando è assente il papà i genitori dovevano avere il diritto di andare a prendere la nipotina e poter accudire o portarlo a spasso. Questo è il dramma di tutti i nonni, non solo da parte mia e della nonna di Miriam. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori, non siamo genitori di serie B.